Gina e Massimo Bar Mirage, allora come mai questo ritorno a Ponte Lungo? Perché prima di tutto Albenga è bellissima e poi il Viale Ponte Lungo è la zona più bella di Albenga. E' sempre stata e lo sarà sempre la zona più bella di Albenga. Ricordiamo che voi siete albenganesi che le circostanze della vita hanno portato a Noli e adesso tornate. Da questa visione così estesa, quali prospettive di rilancio per il Viale? Noi vorremmo che il Viale ritornasse quello che era una volta, cioè con più negozi, con più gente, con più voglia di vivere, più passaggio, più viva. Noi vogliamo che voi a Ponte Lungo sia più viva. D'accordo, grazie mille.